Segniamo le forme verbali. Ofliscano, Deloy, Eiken, Epistatai, Isti, Pipthein, Traustenta, Ragenta, Isidois, Oida, Chiumumanus, Catartyutentas, Ecpelei, Fronain, Esti, Iubrizein, Exepistato, Iuperbinusa, Prokeimenus, Dedraken, Epaukein, Dedrakuyan, Gelan, Keisetai. Allora, Utos, Così, Emoiga, Dativo, Permà. Tiunkain, Otanara, Insort, Regge il Genitivo. Questo destino, Sottinteso, Esti, è un dolore da nulla. Alla, Ma, Da EI inizia una subordinata ipotetica. che finisce qua. Quindi questa è protasi, EI fino a Nagion, è apodosi e all'AN riprende AN di nuovo, ELGUN. Quindi, Ma, EI, SE, ENSCOMEN, Sopportassi. Valore predicativo, Come cadavere insepolto. Colui che è morto, discendente da mia madre, letteralmente da mia madre, AN ELGUN, Soffrirei, ECA EINOIS, ECA EINOIS, ECA EINOIS, ECA EINOIS, per quelle cose. Qui, noi possiamo anche sottintendere l'infinito EI, all'interno dell'ipotetica, e quindi dire, se sopportassi che fosse un cadavere insepolto, colui che è morto, nato da mia madre, dico è la nostra scelta, diamo valore predicativo, sottintendiamo una copula S e lo rendiamo come parte nominale. Poi, soffrirei, appunto, per quelle cose. DE, invece, UC ALGUNO MAI, NON SOFFRO, TOISDE, PER QUESTE, DE, MA, APODOSI, di nuovo abbiamo EI, quindi, MA. Se a te io sembro, quindi, se ti sembra, che adesso io per caso faccia cose stolte, quasi in un certo modo, sono accusata, accusativo di relazione, di stoltezza, dativo d'agente, da uno stolto. All'interno di questa ipotetica, abbiamo la costruzione personale di DOCO, quindi, come la costruzione personale latina del verbo VIDEOR. In più, abbiamo il participio predicativo del soggetto DROSA, accompagnato dall'infinito TUNCANEIN. Quindi, noi rendiamo TUNCANEIN con valore avverbiale e consideriamo il verbo DROSA come se fosse posto all'infinito, appunto, per via della costruzione personale di DOCO, ok? Di DOCO, cioè DOGEU. Quindi, ma se ti sembra che adesso io per caso faccia cose stolte, per così dire, quasi in un certo modo, letteralmente, sono accusata di stoltezza da uno stolto. Deloie, è chiaro che il carattere della fanciulla, TESPAIDOS, sottinteso è FIERO, da un padre FIERO. Quindi, noi dopo Deloie, consideriamo che c'è una proposizione infinitiva soggettiva con EINAI sottinteso, per cui gli accusativi presenti all'interno fungono da soggetti. FIERO. Uc epistatai non sa sottostare cacois ai mali. Alla isti ma sappi che ma sappi certamente che TA FRONEMATA I CARATTERI AGAN TROPPO DURI la funzione di soggetto all'interno dell'oggettiva SOPRATUTTO CADONO E VERBO REGGENTE AN ESILIOIS potresti vedere che cosa che il ferro più robusto opton temprato da che cosa ec più rosso dal ferro peris che l'è indurito traustenta participio predicativo dell'oggetto auristo passivo quindi è spezzato è sempre altro participio predicativo dell'oggetto passivo è rotto PLEISTA in più PARTI OIDA SO CHE TUS IPUS I CAVAGLI che sono ANIMOSI quindi possiamo risolverlo questo participio attributivo come un aggettivo FOCOSI poi abbiamo di nuovo il participio predicativo dell'oggetto sono domati e il dativo di causa efficiente da un piccolo freno quindi avete visto che sia con traustenta ragenta e poi dopo con cartiutentas abbiamo la costruzione del participio predicativo dell'oggetto con cui diciamo una maniera alternativa alla costruzione dell'infinitivo oggettiva poi GAR UEC PELEI infatti non è possibile FRONEIN MEGA avverbio IN SUPERBIRE per colui che è schiavo dei vicini quindi da hostis a pelas abbiamo una relativa con pronome relativo indefinito quindi potremmo dire per chiunque è schiavo dei vicini qua abbiamo pelas avverbio sostantivato dal ton articolo quindi l'avverbio sostantivato DÈ AUTÈ EX EPISTATO IUBRIZEIN TOTE quindi ma lei era consapevole di commettere un oltraggio TOTE ALLORA poi abbiamo un participio predicativo dell'oggetto violando le leggi che sono imposte quindi il participio predicativo dell'oggetto possiamo dare valore temporale quando violava le leggi imposte qui il participio è attributivo ma EPEI DEDRAKEN subordinata temporale dopo che ha agito questa è la seconda violenza sempre sottinteso il verbo esti questa è la seconda violenza vantarsi tutois per queste cose e ridere dopo averle commesse quindi DEDRAKUYAN è participio perfetto congiunto qua invece abbiamo una dichiarativa esplicativa certamente adesso io sottinteso sono EIMI cioè io non sono un uomo e invece lei è un uomo e poi abbiamo l'ipotetica se queste prepotenze queste violenze questi atti di forza resteranno impuniti per costai per lei